Il Principe di Persia è finalmente tornato. Dopo anni di calma piatta Ubisoft a Montpellier è infatti deciso di riportare in vita la serie creata da Jordan Mekner con Prince of Persia The Lost Crown, Metroidvania disponibile dal 18 gennaio 2024 su tutte le piattaforme. Una rinascita più che gradita, insomma. Tuttavia illecita anche una domanda. Gli anni di inattività avranno finito per far depositare forse troppa polvere sul marchio o l'avranno fatto tornare più determinato che mai. Beh, esiste solo un modo per scoprirlo. Seguirci. Sin dalle prime battute il titolo si distacca da ciò che l'ha preceduto, mettendo così in campo un protagonista inedito e una trama priva di legami con gli eventi del passato. Così le vicende del nostro eroe Sargon ruotano attorno a un gruppo di guerrieri chiamato Gli Immortali, ovvero dei difensori del Regno di Persia qui impegnati nel salvataggio del principe Pegassan dopo il suo rapimento. Certo, raccontata così, la base narrativa potrebbe sembrare debole, ma si fa via via più solida non appena ci si addentra nelle misteriose rovine dove il tempo scorre in modo bizzarro, con la ricerca del principe che finisce quindi per trasformarsi in una curiosa ragnatela di eventi, giochi di poteri e viaggi temporali. Malgrado qualche elemento più traballante della media per quanto riguarda il background narrativo del mondo e dei personaggi, l'avventura di Ubisoft riesce comunque a reggere discretamente, e persino a proporre qualche inatteso colpo di scena. Sia chiaro, il gioco non brilla certo per i suoi dialoghi, ma è piacevole comunque constatare come gli sviluppatori non si siano persi in un bicchier d'acqua, e il merito va senza dubbio al fatto di essersi ispirati a un titolo del calibro di Hollow Knight. Tuttavia, nonostante le similitudini strutturali con l'opera del Team Cherry siano evidenti, non siamo di certo al cospetto di una fredda copia priva di idee. Ubisoft ha infatti estratto dal cilindro un gioiellino con molte qualità uniche. Vediamo quali sono. Dopo aver superato una breve fase introduttiva molto lineare, il mondo di The Lost Crown si apre e svela una struttura quasi identica a quella di Hollow Knight, appunto. La scarsa originalità alla base dell'architettura generale non è però un problema. I designer hanno infatti creato una mappa non solo molto estesa, ma che a tratti ha poco da invidiare a quella del Team Cherry. Il funzionamento dell'esplorazione è invece un punto che accomuna le due opere, con tanto di checkpoint sparsi un po' ovunque e un numero limitato ma calcolato di teletrasporti. Quella targata Ubisoft possiede tuttavia un mix di proprietà davvero interessanti e che rendono il vagare di Sargon meno ostico, facilitando quindi il backtracking e permettendo anche di segnalare con chiarezza gli ostacoli o le necessità in una certa zona della mappa. Inoltre la navigazione generale è nettamente più agile e veloce rispetto alla stragrande maggioranza degli altri metroidvania. Qui il protagonista è infatti una scheggia capace di scattare ed eseguire manovre acrobatiche e le sue abilità di movimento lo rendono via via sempre più abile nel superare grosse sezioni della mappa. Va segnalato inoltre che sono disponibili anche delle semplificazioni legate a degli obiettivi pensate per indicare le quest primarie e alcune attività secondarie, una trovata questa che tuttavia si rivela abbastanza inutile ma che fornisce comunque un'ulteriore prova di quanto gli sviluppatori non si siano preoccupati di tenere per mano il giocatore durante la campagna. Una scelta questa che in un gioco del genere si è dimostrata davvero azzeccata. Fin dall'inizio Sargon è piuttosto scattante e oltre a correre può saltare sui muri, scivolare a terra ed eseguire rapide schivate. Avanzando nella campagna però il protagonista ottiene anche una miriade di abilità, tra cui la capacità di scattare in aria, di manipolare il tempo creando cloni da cui poi può teletrasportarsi e usare un arco per attivare piattaforme a distanza. Tutte capacità queste che il gioco sfrutta a dovere, proponendo al giocatore una lunga serie di fasi platform piuttosto impegnative tra ostacoli mobili, salti millimetrici e sezioni da percorrere con grande precisione e tempismo. Ma non solo, l'avventura contiene infatti anche alcuni puzzle ambientali non semplicissimi e praticamente obbligatori, che vi costringeranno anche a spremere un po' le meningi. E si tratta di elementi che rendono la campagna discretamente complessa persino a difficoltà normale, nonostante il prezzo del fallimento sia solo una marginale perdita di punti vita e la necessità di ricominciare una fase platform dall'ultima zona di terreno stabile toccata. Chi ama le sfide brutali comunque non avrà di che preoccuparsi. Le difficoltà più alte sono infatti davvero cattive e non sono lì presenti solo per fare scena. Nonostante l'eccellenza delle meccaniche di movimento comunque, il titolo raggiunge il suo picco solo quando si inserisce nel mix tutto ciò che è legato agli scontri. La situazione qui è infatti simile a quella di un picchiaduro a scorrimento tecnico e nonostante non ci siano personaggi multipli tra cui scegliere, le mosse di Sargon sono abbastanza da permettergli di eseguire trucchetti eccezionali in battaglia. Come se non bastasse poi il nuovo Prince of Persia fonde magnificamente combattimento e platforming, tanto che ogni singola manovra legata all'esplorazione può anche essere applicata in qualche modo agli scontri. Con un po' di pratica sarà insomma semplice eseguire evoluzioni spettacolari mentre si riempiono di botta i nemici che popolano le map e fanno la loro comparsa persino dei poteri magici ricaricabili davvero utili contro avversari particolarmente ostici. E senza contare che esistono poi anche degli amuleti equipaggiabili in slot fissi, con effetti misti che possono potenziare le manovre difensive, offensive o offrire poteri unici che cambiano completamente l'approccio all'azione. E non poteva inoltre mancare una parata come tecnica difensiva, una mossa questa che se usata con il giusto tempismo regala importanti vantaggi. Le battaglie contro i boss sono infine sceniche e ben congegnate e vi assicuriamo che alle difficoltà più elevate alcune di esse fanno seriamente sudare. Insomma, il team di sviluppo non ha davvero lasciato nulla al caso dal punto di vista del gameplay e di rado abbiamo visto giochi del genere così ben calcolati o con una curva di difficoltà così soddisfacente. Tuttavia, nel voler imitare Hollow Knight e il suo livello di sfida, i design ranno un po' esagerato e non tutte le aree di gioco scorrono con la stessa grazia. Certe mappe cedono infatti col platforming, altre invece offrono ricompense trascurabili dopo percorsi impegnativi, mentre altri ancora propongono idee decisamente già viste. Si è chiaro, non si tratta di difetti in grado di rovinare l'esperienza, ma avremmo comunque apprezzato qualche esperimento più audace o qualche zona dalla progressione più fluida. Il secondo punto debole riguarda invece il comparto artistico, a nostro parere piuttosto debole rispetto alla qualità degli altri elementi. Ben inteso, la nostra non è una bocciatura totale. L'avventura infatti è ricca di scene epiche e non mancano neppure zone davvero ispirate, eppure nel complesso esteticamente l'abbiamo trovata piuttosto piatta, ed è un vero peccato perché la mappa è tanto estesa quanto ricca di biomi. Per quanto riguarda invece l'aspetto tecnico non c'è molto da dire. The Lost Crown sembra infatti ben ottimizzato su PC anche con configurazioni di fascia medio-bassa, e fatta eccezione per qualche curioso bug, non abbiamo notato problemi particolarmente gravi. Nulla da recriminare invece sulla longevità. In meno di 20 ore infatti si arriva ai titoli di coda, ma ne serviranno senza dubbio di più per scoprire tutto ciò che il titolo ha da offrire, e alle difficoltà maggiori i tempi si dilatano sensibilmente. Tutti elementi questi che vi ricordiamo potrete assaggiare grazie alla demo messa a disposizione da Ubisoft e già disponibile su tutte le piattaforme. Una versione di prova con sezioni accuratamente selezionate per mostrare le caratteristiche del gioco, senza però incorrere nel pericolo di rovinare la storia. Dopo tutte le sue trasformazioni nel corso degli anni non è facile affermare cosa sia davvero Prince of Persia, ed è dunque curioso che un Metroidvania votato all'azione sia forse il titolo che più di ogni altro è stato capace di catturare l'anima della serie. Volete l'azione al cardiopalma? Beh, qui la troverete nelle combinazioni acrobatiche e nelle spettacolari boss fight. Volete il platforming brutale dell'episodio originale e l'agilità delle incarnazioni 3D più recenti? Ok, non resterete di certo a bocca asciutta grazie a un level design di tutto rispetto e un approccio impegnativo di certe fasi. Insomma, Ubisoft a Montpellier forse non avrà creato il gioco più originale in circolazione, ma la sua ultima creatura non si limita a copiare. The Lost Crown utilizza infatti al meglio ciò che ha reso grandi alcuni dei migliori metroidvania sul mercato e riesce anche a distinguersi dalla massa con la sua qualità. In parole povere, un gran gioco che qualunque amante dell'azione dovrebbe provare. Voi cosa ne pensate dell'atteso ritorno del Principe di Persia? Vi aspettavate una prova del rientro di una qualità così elevata? Diteci la vostra nei commenti, e non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdervi nessuna novità sul panorama action platform. Qui accanto come di consueto trovate dei video che potrebbero interessarvi. Alla prossima!